Le ragazze le scelgo. Le ragazze sono la mia salvezza, la mia ragione per cui mi sveglio. Ho molto successo le ragazze perché... Il mio look piace alle ragazze. Mi saluto una ragazza, mi saluto un'altra, un'altra, un'altra. Di ragazze ne ho un po' un po' in abbondanza. Chiamare le ragazze. Il rapporto con le ragazze è buono. Li voglio tanto bene, ma le ragazze sono le ragazze. Mi piace una ragazza, vado lì, e io lo dico. Ho molte ragazze, ce ne ho sempre di scorta. La ragazze siamo messi in piedi. Perché stai vedendo tante ragazze buone. Cioè, è questo che conquista praticamente le ragazze, oltre allo sguardo. Ti guardano tutte le ragazze. Io le ragazze ce ne ho a destra, a sinistra, ce ne ho bionde, mori, mori sono le mie preferite. Mi piacciono tantissimo le ragazze. Quelle ragazze ci sono fare. Capirete perché tutte le ragazze stanno con noi. Ho successo con le ragazze. Si deve comportare con una ragazza. Ragazze, tanta roba. Le ragazze, becco il palo, però faccio due. Sono le ragazzine che mi guardano. Così c'è più disponibilità di cercare ragazze. Le ragazze e la musica sono la ragione per cui mi sveglio. Al collegio ci vado da single, tranquillo.